Il direttore generale della Pistoese Marco Ferrari ha fatto il punto sull'andamento delle squadre del settore giovanile sia sulle qualità tecniche che per i risultati che stanno ottenendo. Il settore giovanile arancione comprende 11 formazioni affidate alle cure tecniche di Riccardo Agostiniani, Alessio Maffucci, Luca Tognozzi, Luca Vigna, Fabrizio Boccaccini, Matteo Capecchi, Maurizio Gherardini, Maurizio Tempestini e Stefano Babbini. Circa 250 sono gli atleti tesserati in collaborazione con l'OS Rameni, Società Satellite Arancione. Paolo Gisindi è responsabile organizzativo del settore con Sauro Magni, responsabile del settore tecnico. Parliamo con i due tecnici più rappresentativi dello staffe tecnico del settore giovanile, Riccardo Agostiniani che allena la Berretti. Mi pare di poter dire che è un lavoro importante per preparare dei giocatori per la prima squadra di cui quest'anno già ha avuto bisogno. Il fatto che sia stata una scelta della prima squadra di avere una rosa numericamente non ampia, questo ha permesso sia all'inizio in preparazione che durante l'anno a tanti ragazzi che appartengono alla Berretti di fare allenamenti con la prima squadra e poi di venire a giocare il sabato con la Berretti. Naturalmente il primo anno di ripartenza è un anno difficile, abbiamo trovato strutture molto più organizzate della nostra, però cerchiamo di fare il meglio per preparare qualche ragazzo a poter veramente esordire la prima squadra. Luca Tognozzi dall'arto della sua esperienza di calciatore sta preparando le future promesse del calcio arancione, vale a dire la squadra nazionale allievi che sta ottenendo degli ottimi risultati, ma quello che conta è prepararli. Il che conta è la crescita dei ragazzi, come ho detto prima ai vostri colleghi. Numericamente, a livello di numeri di campionato, sì, siamo anche sopra le previsioni come classifiche, come punteggio, però quello che conta è la crescita, infatti abbiamo visto quest'anno Bortoletti che si allena stabilmente in prima squadra, altri due giocatori sono andati con il mister, insomma, i risultati devono essere questi, le nostre vittorie sono queste, insomma, più che i risultati del campo.